di quello che costa adesso dove andiamo ragazzi? io direi numero 2 visto che la A è lì ok però dico eh quando ho detto che dobbiamo fare andiamo a sinistra vai cos era con te cos prima che stavamo con il su 152 e ti dava le canna una tre da spingerti certo e io volevo fare il train noi eravamo con Rodinas che facevamo trenino la slitta so vieni come cazzo fanno già stare su A? ah la partita è iniziata a 1800 circa dice Stefano di di prezzo fascisti su Marte fascisti su Marte rosso pianeta cosa? ma saranno boh ho preso un comandante già ma siamo partiti in join in progress eh sì penso di sì non me lo spiego vabbè che l'Hercat è un dito al culo veloce però ti ho capito si è teleportato si oh oh contatto contatto T34 85 è rimbalzato il colpo secondo no sezzo è stato ucciso perfetto oh oh c'è qualcun'altro si ce n'è un altro qui sulle mie ore una arrivo guarda io ti ripeto che faccio le 11.42 però io vengo col Tiger Bolshevico lei ha perfettamente ragione sulle 11.42 oh oh cos'è 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 ah è un buco di culo ok è morto se mi sei preso cercando non ti dà un po' un tosto eh ma io non lo so cos'è ti serve la mano? sì ok mi ha ucciso il cannon bastardo appena giro la torretta senti il nudo è pesante eh ma se non sei capace di mirare ritirati io? non tu lui ah ma che perché c'è? t'ho pure aiutato la prossima volta c'è un contatto verso settore 9.7 le mie ore 12 il frog ha le tue 12 ci sono due contatti sì davvero uno l'ho già shottato 34 di merda è integro vaccagara rimbalzato sulla corazza è morto è morto kv2 è morto? eh sì andate anche perché se la prossima volta che ti stavo dando una mano la prossima volta ti mando a fanculo giusto non ho capito che è successo? no penso il commento che hai fatto prima ah perché se ti aiuto poi mi dici pure che faccio schifo a mirare cioè la prossima volta ma era l'altro quello che dava problemi cioè l'altro mi ha sparato quattro colpi prima di riuscire a farmi un danno eh buttatevi in acqua allora la zona la stiamo prendendo eh sono riuscito a prenderla io adesso sono in riparazione bravissimi io intanto io e Blue Beta facciamo un po' di campeggio selvaggio sulla spiaggia sì aspetta che accendo il barbecue grilliamo qualche giapponese eh magari non vedo l'ora guardo mamma mia io ho paura i gammati giapponesi saranno la cosa più bobriosa che avranno mai aggiunto su questo gioco ma gli italiani quando vengono buttati fuori mai non si può sapere comunque davvero tra giapponesi e italiani forse era meglio come i carri armati mettevano gli italiani devo essere sincero perché i giapponesi hanno certi obobri beh non è che i carri italiani erano migliori ma meglio alcuni erano meglio ti giuro che alcuni erano un po' meglio a meno tutta la linea dei semi-20 era già meglio carri medi tra virgolette leggeri oh cazzo occhio che quello è vivo ciao ragazzi sono andreas buonanotte volevo dirti si è ammazzato il T-34 io si che non si è accorto di avere un panther un tiger davanti la parte ragazzi ragazzi una volta con il kv2 ero in mezzo a due sherman che non si rendevano conto che ero lì ma tipo a distanza un metro ti confondevano per una casa è normale è un equivoco normale anche quando guidi il mouse in mezzo alla città tutti si rendono conto di cosa sei cioè vedo un palazzo di due piani dicono vabbè è un palazzo di due piani ragazzi dove avete bisogno di una mano m18 davanti a me aspetta e arrivo ma che arrivi è andato ah e allora ecco brucio qua c'è sul barbecue visto brucele arrivo ragazzi come siete messi ragazzi siamo in partita sì ma io penso tre minuti massimo finisce come hai osato brutto pezzente plebeo attaccare il mio nobile panther il mio nobile panther io sto riparando gigi ce ne facciamo una ferraria due secondi pezzente hai rovinato la mia vernice vuoi giocare per terra o vuoi andare a dormire no a terra a terra allora faccio una cosa visto che il numero non consente vai a impiantare l'invazione del giappone io ne faccio una ferraria ok buonanotte ragazzi buonanotte luca ciao buonanotte è morto? eh? è morto si tu pensi che sopravvivono le canonare di nobile panther? eh qui si stanno a capire a contatto m19 i plebein hanno ancora capito ore 9 ore 9 ore 9 loader commander cannon breach e ammo eh capirai gli ho sparato nello stesso punto infatti non gli ho fatto niente distrutto altro ce n'è un altro oh carino quello enemy kill assist l'ho mitragliato e basta comunque ecco una cosa che devo capire hanno cambiato adesso il sistema di spawn dello spawn protection o è buggato e quando spawni adesso non è più in automatico che sei che sei sano e salvo aspetta aiuto ragazzi da me stai fermo immobile sei salvo rotto 1,40 no non c'è più grazie si esatto e stavolta ho fatto qualcosa su war thunder tutto può resistere a tutto se il gioco lo decide parole sante tiger op comunque almeno lo sherman con 105 avrà un perché si che c'è più